Ci si porta indietro da un po' di tempo, ci stiamo lavorando, però è una questione di attenzione e di un po' di attenzione. E se hai intanto un commento sulla partita di oggi? Il commento è presto fatto, sono 5 a 1, ho reso tante lepre, troppi errori da parte nostra, è stata attenzione difensiva, specialmente se hai preso 3 gol praticamente uguali, quindi niente da dire. Quanto riguarda il campionato? Il campionato per ora è abbastanza soddisfacente, però bisogna elevarsi, poi questi cali di tensione che ci sa, specialmente con le squadre un po' migliori, ci puniscono. Probabilmente la sosta non ha fatto bene ai ragazzi, insomma. No, questi sono degli errori che ci si portano indietro da un po' di tempo, ci stiamo lavorando, però è una questione di attenzione e di un po' di attenzione, dai. Adesso però bisogna voltare pagina e pensare subito al prossimo avversario. Ah no, ma qui non c'è problema, noi siamo in un processo di crescita, quindi è l'amarezza ora per 5 minuti per il risultato, perché poi dopo si lavora per farli crescere, non è che sia il risultato che ci condiziona, almeno noi. Quindi bisogna lavorare per la crescita dei ragazzi. Grazie. Grazie.